Buonasera signor Presidente e grazie per aver scelto Porta a Porta per la sua prima intervista alla televisione italiana. L'Italia e l'Occidente hanno l'Ucraina nel cuore. Il Presidente Draghi, parlando con il Presidente Biden, ha confermato che l'Italia e l'Europa continueranno a dare all'Ucraina tutte le armi necessarie, ma sostiene anche la necessità di una trattativa. Allora io le chiedo quali sono le sue condizioni per una trattativa. Buonasera Bruno, buonasera Italia, tutto lo studio, sono molto felice di sentirvi. Per quel che riguarda le trattative con la Federazione Russa, questa questione si complica ogni giorno. Questa è la mia opinione personale, perché ogni giorno i russi occupano i villaggi dove vivevano. Io dico vivevano perché molte persone hanno lasciato le proprie case e molte persone vengono uccise dai russi. Io vedo le tracce delle torture, delle uccisioni, delle rovine che hanno lasciato dietro di sé i russi. E questo complica molto la possibilità di condurre le trattative. Io voglio che capiate che la nostra società è molto pacifica e per tutti questi otto anni noi volevamo fare la trattativa, ma adesso la società non la vede come positiva. Però io come Presidente sono pronto a parlare con Putin senza alcun mediatore, però nelle condizioni di non ultimatum. Se il Presidente Draghi dice che se ci sarà pace dovrà essere la pace che vuole l'Ucraina, quale pace vuole l'Ucraina? La pace che vuole qualsiasi paese, le cose normalissime, il rispetto alla sua sovranietà, all'integrità territoriale, alle tradizioni del popolo, della lingua, il rispetto verso le persone, verso la società, verso l'indipendenza del nostro paese. Queste cose possono sembrare banali, ma proprio queste cose banali sono state violate dalla Federazione Russa. E per questo bisogna ripristinare tutte queste cose. Che significa? Bisogna portare via le forze armate della nostra terra. Noi non abbiamo i militari sul territorio russo, quindi noi dobbiamo liberare i nostri villaggi, le nostre case. Non parlo neanche di restituire quello che è stato saccheggiato. Questi non sono valori veri per noi. Per noi il valore vero è la vita. Quindi che loro se ne vadano, loro dovranno rispondere per tutto quello che hanno fatto. Quindi loro dovranno restituire. Noi siamo persone, come popolo, noi non possiamo accettare le compromesse per quelle che riguardano la nostra indipendenza. Però, come minimo, voi dovete uscire dal territorio che voi avete occupato del 24 febbraio. Certo, forse loro rimarranno su alcuni territori occupati, purtroppo. Ma il primo comprensibile passo per poter parlare di qualcosa. Noi non sentiamo alcuna risposta su questa domanda. Ma purtroppo la cosa principale è che, certo, ci saranno le riparazioni, ci saranno i tribunali, ci saranno le condanne. Tutto questo ci sarà con il tempo dopo. Ma noi non potremo mai restituire le vite umane, i bambini uccisi. E questo non ha un prezzo. Non possiamo perdonare questo.